Ci sono alcuni osservatori su queste problematiche della strada? Ma ce n'è solo uno che è quello che abbiamo iniziato nel mese d'aprile insieme a Codici e l'associazione Amici di Raffaele Caserta dove che già sta puntando sul tratto di strada. Non vi nascondo che abbiamo già inviato al prefetto alcune problematiche che sono state già risolte e in più già da domani sarà presentata immediatamente sul tavolo del prefetto un incontro urgente perché ci sono alcune problematiche sul tratto che stiamo analizzando attentamente come osservatorio sulla Bocale Lazzaro. Raffaele Caserta è scomparso in circostanze tragiche qualche mese fa. Ne parliamo con lo zio. Sì, è scomparso circa un annetto fa, giorno 13, ottobre, fa un anno che non è più con noi. Questa serata è stata dedicata a tutte le vittime della strada, tutti quei ragazzi che hanno perso la vita, giovanissimi. Io, che dirvi, queste serate così sono, da un lato mi riempio di orgoglio perché c'è stata una partecipazione essendo che c'è stato un brutto tempo e tante persone ci hanno chiamate, ci sono scusate che non sono potute intervenire in questa serata e le ringrazio di cuore. Noi, queste serate, dobbiamo fare molto di più di quello che stiamo facendo per ricordare questi ragazzi. Io ho visto tanta gente qui dentro veramente distrutta per la mancanza di questi ragazzi. Giovani, morti per, non so, la colpa di chi, se per l'asfalto, se per quello che gestisce questa situazione stradale. Questo non lo so. So solo che noi stiamo lavorando interrottamente per poter evitare queste disgrazie di questa situazione che ci sta veramente, stiamo veramente mettendoci l'anima e corpo in modo che questa 106, in collaborazione con il codice, con il dottor Salamone, responsabile dell'osservatorio, ci stiamo lavorando 24 ore su 24 per poter risolvere qualche problema. Qualcosa abbiamo ottenuto, come abbiamo detto precedentemente nei giorni scorsi, che abbiamo ottenuto e ringraziamo all'autorità dell'intervento che hanno fatto per le nostre richieste. Non ci fermeremo sicuramente perché non ci dobbiamo cullare, perché le situazioni su queste 106 sono tantissime. Come voi sapete, adesso che arriva l'inverno sappiamo tutto il problema che c'è in questa strada. Speriamo che risolviamo diversi, in collaborazione sempre con il nostro segretario, che ci sta dando una grossa mano per poter veramente dire basta vittime su queste 106, basta vittime sulla nostra, specialmente 106, dove è venuto resta a dirvi quanto morti ci sono stati. Speriamo di risolverla più presto e di mettere questa strada in sicurezza. Le responsabilità come vanno divise tra automobilista, le autovetture, la strada, gli impianti, le carrozzerie, eccetera? Guardi, di più c'è un discorso non di colpa, ma possiamo dire che la maggior parte è su strada, a prescindere l'automobilista che magari fa delle operazioni scorrette, appositivemente perché? Perché purtroppo dei tratti te lo mettono proprio a fare una scorrettezza stradale, perché non ci sono divieti, ci sono strisce continue, solo e scusivamente in certi tratti, vengono abbandonate anche disposizioni, possiamo così dire, di segnaletiche, dov'è che pure l'automobilista non vede perché è sbiancato, perché non è stata cambiata, o magari neanche la striscia si vede. Coperta dalla vegetazione. Coperta dalla vegetazione, tratti anche dov'è che non c'è la sicurezza. Sagume deformate. Sagume deformate per non parlare neanche dell'asfalto, perché è un asfalto viscito, dove basta toccare il pedale del freno, la macchina se ne va. Quindi non è sufficiente fare un buon check up? No, non è sufficiente, però l'osservatorio si sta promuovendo, lo ha già fatto, appositivemente per redimere questo tipo di problematiche e per allenire gli incidenti stradali, perché gli incidenti stradali sulla 106 vengono apposta su queste situazioni che stiamo qui a delencare e stiamo ribadendo. Lo ribadiamo fino a domani mattina, perché sui certi tratti sulla bocale Lazzaro, purtroppo ci sono anche dei servizi commerciali, per non parlare servizi anche pullman, dove si comportano scorrettamente e vieno anche la striscia continua. Quindi lì avviene proprio l'incidente, per una scorrettezza, perché la sicurezza stradale e la viabilità è scarsa, non è messa bene in sicurezza, nel procedimento proprio stradale.